salve a tutti voi che state su youtube auguro a tutti un felice momento da good times for all o se preferite zaccaria in questo video parleremo dei movimenti delle stelle del sud e del modello o quello che dovrebbe essere per funzionare sul modello della terra piana e di come possa procedere ultimamente ho voluto porre attenzione se ci troviamo o non ci troviamo all'interno di una struttura cupola o se invece possa trattarsi di un parallelepipedo piatto come si vede qui con linee parallele ma penso che si tratti di una cupola sappiamo che possiamo vedere fino ad una determinata distanza ok abbiamo il polo nord qui al centro e tutte e due in queste ed abbiamo l'equatore proprio qui non preoccupatevi di questa parte quindi qui molto probabilmente non troppo distante dal nord siamo ancora in grado di vedere la stella polare non come si vede dall'equatore e diciamo che questa è la distanza massima fino a dove si riesce a vedere questo è quanto si vede e sapete lo stesso vale per qui non c'è molta differenza si crea sempre lo stesso effetto diciamo fino a questo punto poi se ci si trova qui all'interno c'è bisogno della cupola che curva come qui e che crea una lente semisferica perché è la lente semisferica che creiamo in base a quanto riusciamo a vedere lontano e non ha nulla a che fare con le stelle ma ve lo voglio mostrare quello che vedremo qui quando la lente semisferica si viene a creare esattamente qui vi farò vedere cosa significa semisferica e come funziona questa lente vedremo la rotazione delle stelle del sud e non importa in che posto ci troveremo anzi vedremo delle cose abbastanza strane vedremo due stelle polari nel cielo nello stesso momento perché questo crea il movimento delle stelle del sud quelle che si vedono ora in questo punto con questa cupola proprio qui si crea il percorso delle stelle del sud quello di cui abbiamo bisogno non sono sicuro non so non so come potrà succedere con delle linee rette come queste però deve trattarsi di una struttura cupola comunque voglio farvi vedere quello di questo parlando di quanto riusciamo a vedere lontano ovviamente questo non è in scala ma vi voglio dire che questa lente semisferica esattamente qui è la distanza fino a dove si riesce a vedere sulla terra sarà molto più grande ok se prendete le vostre stelle loro si troveranno esattamente qui sopra avete la terra da sotto e la distanza che riuscite a vedere mentre le stelle si trovano sopra le vostre teste così dove semplicemente girano sopra le vostre teste voi invece riuscite a vedere solo quello che si vede attraverso questa semisfera e quello che vedrete sarà come qui tutte le costellazioni anche quando vi inclinate da una parte tutte le stelle che riuscite a vedere che sarete in grado di vedere dal vostro punto di vista dal centro di questa lente a semisfera siamo noi che creiamo la lente semisferica semplicemente attraverso la distanza che riusciamo a vedere ma il fatto è che datemi qualche secondo per sistemare questa lente ora il modo di come funziona la lente non ha non avrà alcun senso su un quadro come potete vedere possiamo ottenere due differenti rotazioni potete vedere quelle in senso orario ed in senso anti-orario riuscite a vederle? è a causa delle lenti semisferiche che creano i nostri occhi che ci fanno vedere questo non importa da dove ci troviamo sulla terra vi faccio vedere di cosa sto parlando ho solo bisogno di sistemare le cose per farle ruotare e questa è una idea sulla quale ho lavorato da solo eccoci qui ho fatto questo per farla ruotare con diversi cerchi li ho un po' scompigliati perché volevo creare questo singolo puntino proprio qui e quando avete un unico punto devo correggere questo indicatore quando si ha un unico punto osservate cosa fa questo singolo punto osservate addirittura si arriccia attorno su tutte e due le estremità per poi scomparire ora se funzioniamo come fa questa lente semisferica otterremo questo anche quando siamo sotto la stella polare in centro ovunque si trovi il sud questo è questo è quello che succede che deve accadere esattamente in qualsiasi parte più verso l'esterno dove vi troviate rispetto al centro avete fatto attenzione a questo ovunque io posizioni la stella polare si trova sempre dalla parte opposta pertanto semplicemente quando guardate a sud o verso la parte esterna è dove vedrete il movimento circolare ma non vediamo questo a 40 gradi nord come dove mi trovo adesso a 41 gradi nord è più come non riesco nemmeno a farlo non si vedono le stelle che si arricciano perché qui sono piatte quello che cerco di dirvi è che la lente creata dai nostri occhi o prospettiva è formata dalla distanza che riusciamo a vedere in ogni direzione non crea esattamente l'effetto di questa lente crea qualcosa di differente il che mi fa capire che c'è una struttura solida verso il bordo esterno o se non fosse esattamente solido dovrà comunque avere questa forma credete le stelle che vedrete nell'acqua se qualcuno di voi riesce a farlo ne crea delle altre rispetto a quello che si trovano là veramente questo è quello che ho voluto condividere con voi gente e l'idea che ho avuto nel lavorare con queste lenti ultimamente ne ho ordinata una molto più più grande perché questa è di solo i 60 mm ma me ne arriverà una da 100 mm e da allora avremo una veduta migliore ma per adesso questi sono i percorsi delle stelle del sud che vediamo e credo che debba esserci una struttura fissa solida o anche non una struttura solida ma deve esserci una forma cupola deve essere come questa e ho pensato che potesse essere come questa senza problemi ma poi ho iniziato a lavorare su queste lenti questa è quella che creiamo noi stessi con i nostri occhi non creiamo questa qui non lo facciamo quindi abbiamo bisogno di cercare da qualche altra parte per trovare sapete una lente solida lassù qualcosa che ne crea una come questa che vediamo questo è tutto quello che volevo dire ma sto ancora lavorandoci su altro materiale perché no ho un sacco di roba qui per lavorarci su altro materiale e vedremo che cosa salterà fuori questo è tutto gente buone cose a tutti chiudo e come sempre grazie di aver guardato un sacco di roba